Abbiamo scoperto in questi giorni che il Comune ha soggettato all'imposta sulla pubblicità dei cartelli considerandoli come insegni di esercizio, ma insegni di esercizio non sono, perché sono dei cartelli che riassumono il contenuto del regolamento del maniale comunale, perché questa ordinanza è scritta molto fina e quindi gli operatori per dare un servizio ai bagnanti l'hanno riassunto ingrandendo i caratteri. La fidataria del Comune di Fano considera invece questi cartelli come insegni di esercizio e nel caso di che trattasi, guarda caso, purtroppo questi cartelli sono decisivi nel far superare la franchigia dei 5 metri quadrati sopra la quale gli operatori debbono pagare l'imposta sulla pubblicità, perché se questi cartelli fossero stati considerati degli avvisi e non degli insegni di esercizio, in questo caso l'operatore non avrebbe pagato nulla. Poi c'è un altro caso, un altro operatore di Torretti Ponte Sasso che ha affisso un cartello per dire ai bagnanti che il parcheggio è riservato a quello stabilimento balneare, anche questo non è un insegno di esercizio. Poi magari la fidataria fa riferimento a dei cavili di legge, ma noi riteniamo come oggi con Fartigianato che bisogna senza meno usare il buon senso e quindi noi ci attendiamo che l'amministrazione comunale intervenga presso la fidataria, anche perché altrimenti noi dovremo organizzarci e quindi se questo problema non sarà risolto noi daremo disposizione agli operatori balneari il prossimo anno di oscurare tutte le insegne inutili e di fare in modo che tutti gli stamenti balneari rientrino nei 5 metri quadrati e quindi a quel punto non ci sarà più gettito per l'amministrazione comunale.